Ingegneri, architetti, ma anche tra gli altri commercialisti, revisori contabili, artisti, restauratori, avvocati, chiedono un compenso proporzionato a quantità e qualità del lavoro. In sintesi, l'equo compenso stabilito da norme nazionali in contratti, incarichi e servizi affidati da Giunta e Assemblea regionale, agenzie e aziende dipendenti e società partecipate della Regione. E' quanto si propone un progetto di legge con primo firmatario il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mastro Vincenzo e secondo Gino Traversini, Presidente della Seconda Commissione. La proposta di legge con le marche tra le prime regioni d'Italia sul tema andrà in commissione entro settembre e il Consiglio dovrebbe approvarla entro ottobre. Noi siamo le professioni tecniche, sono circa 7 in tutte le marche, rappresentano 17-18 mila professionisti totali che svolgono tutti i giorni un ruolo fondamentale per lo sviluppo della nostra regione. Mi piace sottolineare il fatto che il giusto compenso debba essere riconosciuto per l'elevata prestazione, cioè questo è un modo per avere un passaggio, secondo me, anche della nostra regione, di avere una modernizzazione della nostra regione e quindi chiedere un'alta specializzazione a fronte di un giusto compenso. Ricordiamo che solo nelle marche oltre 30 mila giovani e meno giovani svolgono attività professionali, di queste 30 mila oltre il 90% non hanno dipendenti, sono lavoratori autonomi individuali che quindi esprimono una forza contrattuale quando si pongono sul mercato molto scarsa e quindi senza una tutela legale possono trovarsi, soprattutto i più giovani, a dover accettare condizioni contrattuali a fatto eque. Abbiamo assistito negli ultimi tempi, anche da parte della pubblica amministrazione, a richieste di collaborazioni professionali a prezzi irrisori o addirittura a titolo gratuito. Quindi quello che si è tentato di fare abrogando le tariffe professionali, quindi liberalizzare il mercato per dare maggior accesso ai giovani nel mondo delle professioni, si è completamente smentito nei fatti. Assistiamo oggi a sempre meno giovani che sono interessati alla libera professione perché non vedono più, magari dopo aver fatto un percorso di studio e tutto il resto, una prospettiva di lavoro futura sia dal punto di vista economico ma anche di soddisfazione professionale e personale. Grazie a tutti!